Benissimo, ciao e benvenuto all'interno di questo video, io sono Alberto Ranzato, creatore di edizione digitale, comunicazione carismatica e altri corsi e percorsi online per il miglioramento della voce, dell'edizione, della comunicazione e del carisma, insomma dell'efficacia comunicativa. Formiamo professionisti, imprenditori, persone che vogliono aumentare l'efficacia comunicativa per migliorare le loro relazioni, nella loro vita privata, nel business, nell'efficacia dei video, public speaking e quant'altro. All'interno di questo video oggi voglio rispondere a una domanda che mi ha detto il mio team di rispondere, che è scritta anche lì dietro, non so se la vedete, ok la voce ma perché l'edizione? E è una domanda che mi hanno detto alcune volte capita all'interno delle consulenze che fanno, di alcuni professionisti, di alcune persone che dicono guarda ho visto il video training di Alberto, ho visto anche alcuni video di YouTube, ho capito che devo migliorare la voce, effettivamente perché mi sento un po' più monotono, ho bisogno di più coinvolgimento, devo parlare in pubblico, tutte quelle che possono essere le problematiche individuali del caso, ma devo migliorare anche l'edizione, perché devo migliorarla? Cioè non è chiaro bene questo concetto, quindi cerchiamo di rispondere effettivamente a questa domanda che dove la risposta principale potrebbe essere dipende, quindi capiremo insieme in questo video perché dipende e da cosa dipende. Quindi ne parliamo dopo la sigla, ciao! Benissimo, eccoci qua allora a rispondere alla domanda, ho capito che devo migliorare la voce, ma l'addizione, perché? Fino a che punto devo migliorare l'addizione? Ma io sono un commercialista, adesso devo entrare in politica, devo migliorare l'addizione? Oppure, guarda io devo fare dei video su YouTube, devo lavorare sulla voce perché poi mi sento in imbarazzo parlando davanti ai video e poi mi sembro monotono, sono sempre piatto, quindi ok, sulla voce ho capito, ma è il caso che miglioro anche l'addizione? Oppure altri casi che possono essere quelli di un professionista invece che agisce in loco, oppure, insomma, ci sono veramente tanti tanti casi diversi. Anche nel tuo caso tu avrai le tue specificità e avrai i tuoi obiettivi da raggiungere dal punto di vista della comunicazione, dell'efficacia comunicativa, che si tratti di parlare in pubblico, che si tratti di fare video, che si tratti di parlare con i clienti, che si tratta di parlare con i colleghi o quant'altro. Ecco che allora, effettivamente, questa domanda, devo migliorare l'addizione? Ma quanto è importante? Devo farlo dal punto di vista prioritario oppure posso farla anche dopo? È meglio nel mio caso che lavoro prima sull'addizione e poi sull'espressività, sulla voce, sul carisma? Oppure è meglio che lavoro prima sulla voce, sull'espressività, sul carisma e poi sull'addizione? Ok, sono tutte domande molto corrette, a cui però la risposta potrebbe essere dipende. Perché dipende? Perché la risposta la troviamo solo se riusciamo a mettere una cornice attorno a questo tema. Solamente quando avremo questi quattro lati, che tra poco ti dirò quali sono, di questa cornice, allora potremmo dentro, in queste cornice, dipingere effettivamente il nostro quadro vocale per la voce e per l'addizione. Questi quattro lati di questa nostra cornice vocale sono chi sono io, chi è la persona o chi sono le persone con cui parlo, quindi qual è il mio pubblico, qual è l'ambiente o qual è il contesto e poi anche qual è lo scopo. Ok, quindi chi sono io? Qual è il mio pubblico? Qual è l'ambiente e il contesto? Qual è lo scopo? Questi sono i quattro lati che ci permettono, insomma, di comprendere effettivamente come dipingere il nostro quadro vocale o di dizione, cioè il nostro modo di parlare, quello che io ho già chiamato in altri video il posizionamento vocale, cioè riuscire a identificare effettivamente che cosa dovremmo migliorare, fino a che punto, fino a che livello, e qual è poi dal punto di vista didattico di miglioramento la strategia, dal punto di vista anche di priorità del risultato da ottenere. Quindi riuscire o migliorare tutte le due cose contemporaneamente, oppure risolvere prima un aspetto e poi magari un altro. Cioè riuscire effettivamente a trovare quella strategia che con il 20% dello sforzo delle attività ti può generare da subito l'80% del risultato. Poi dopo si vanno ad aggiustare tutti gli altri dettagli, ok? Ora, dal punto di vista della voce è abbastanza facile, insomma, magari l'hai capito anche tu, no? Che bisogna migliorare la voce, che è meglio non essere piatti e monotoni o monotoni, ma invece avere musicalità, variazione, riuscire a variare, perché ci permette questa variazione di coinvolgere di più, di riuscire a farsi ascoltare, di catturare l'attenzione, sia che parliamo con una persona, nella nostra vita personale, con i nostri figli, col nostro partner, col suocero, la suocera, o nell'amministrazione, nell'assemblea condominiale, sia che si tratti di un qualcosa di professionale per parlare con i collaboratori, gestire al meglio i collaboratori, parlare con i clienti, vendere, parlare, trattare e negoziare con i fornitori, piuttosto che invece fare public speaking, piuttosto che fare dei video. Ecco che allora la voce ci permette di coinvolgere, e ci permette di dare tutta quella immagine di quelli che possono essere le nostre caratteristiche più generali, dal punto di vista di centratura, di capacità, appunto di leadership eventualmente, e di nostro valore personale, della nostra sicurezza, della nostra autostima. Diciamo che la voce, se volessimo, scusate, paragonarla a quello che può essere il corpo, la voce è quello che riguarda l'atteggiamento, cioè come noi ci atteggiamo nei confronti della vita. Siamo più o meno centrati, radicati, riusciamo a restare nel momento presente, siamo sicuri di noi stessi, oppure siamo timidi, riusciamo effettivamente a trovarci a nostro agio nelle varie situazioni, riusciamo a legare, riusciamo a comunicare, riusciamo insomma ad avere una buona presenza, insomma tutto quello che riguarda il nostro atteggiamento. Questo è quello che ci permette di fare la voce, cioè una dinamicità nel comportamento, una nostra plasticità nei nostri comportamenti per adeguarci alle situazioni, è la stessa cosa che possiamo fare con la voce per dare questa plasticità vocale e sonora per catturare l'attenzione, per riuscire a destreggiarci nelle varie situazioni della vita. Poi abbiamo un altro aspetto però, che riguarda la nostra persona anche dal punto di vista estetico, sul nostro corpo, che è appunto l'estetica, cioè come ci vestiamo, e lì andiamo a lavorare sullo stile, che quindi può essere sempre unito anche col nostro atteggiamento, lo stile del vestito, e quindi noi possiamo avere uno stile, non so, ci vestiamo da drugo, visto il film, quindi in maniera molto così, trasandata, possiamo vestirci invece con uno stile un pochino diverso, sai pantaloni rotti, piuttosto che invece pantaloni quelli più larghi, quindi un po' da punk, più da freestyler, chiamiamo così, oppure invece possiamo entrare in un vestito più casual, ok? Quindi nulla di troppo elegante, magari una roba tipo, come sono vestito io adesso, estate, fa caldo, camicia, anzi, maniche corte, no? Una roba molto semplice, familiare, come può essere quella del nostro canale in determinate situazioni. Oppure possiamo vestirci in maniera più elegante, quindi magari ci mettiamo con pantaloni e la camicia, magari ci mettiamo la giacca, in altre situazioni ci possiamo mettere la cravatta, e noi stessi ci sentiamo a nostro agio, vestiti in un modo o vestiti in un altro, quindi dal nostro modo di vestire, di tenere i capelli, degli accessori che indossiamo, lì si evince il nostro stile personale. Questo stile può essere anche cambiato a seconda del contesto, eh? Dove andiamo ad operare, con le persone con cui stiamo, quindi questa è una cosa che già facciamo normalmente, no? Anche il nostro modo di comportarci e quant'altro, se andiamo in spiaggia ci vestiremo in un modo, magari saremo più liberi di esporci e di comunicare in un determinato modo, avere un certo atteggiamento, se andiamo a una riunione di business o un'altra cosa, andiamo in un corso di formazione, sarà un'altra roba, andiamo a un matrimonio, sarà un'altra cosa ancora, cena di gala, sono contesti che generalmente già facciamo. Ecco, questa stessa cosa dell'eleganza e dello stile la dobbiamo trasportarla dal punto di vista vocale, e lì entra in gioco la dizione. Quindi il vestito che usi fisicamente si trasporta nel vestito vocale, il vestito vocale è l'eleganza dell'eloquio, cosiddetto, cioè la gradazione di eleganza dell'eloquio, ovvero la dizione, cioè il modo di parlare, di pronunciare i suoni. Ora, faccio un altro inciso, e ti posso dire alcune cose che magari non le hai mai ascoltate, magari delle altre cose, secondo me non funziona così, ci sono sempre questi secondo me di gente che magari non è esperta in materia, però ci sono sempre questi secondo me. Cerca di non usare secondo me, cerca di tenere la mente aperta, di comprendere, non giudicare, non offenderti, mi raccomando, ok? Facciamo un piccolo discorsino per cercare di riflettere su questo tema. Allora, partiamo da questo concetto. Nella linguistica, cioè lo studio di una lingua, e in particolar modo dell'italiano, ci sono diverse branche, chiamiamole così, ok? Diversi punti, diverse discipline, che studiano effettivamente quella lingua. E quindi possiamo avere, ad esempio, la grammatica, la semantica, la sintassi, possiamo avere l'ortopia, la fonetica, eccetera. Ecco che, cacchio, la corretta pronuncia dei suoni, e appunto come suona anche il suono stesso, la parola, quindi la corretta pronuncia delle parole e del suono delle parole stesse, diventa una parte della lingua italiana, così come la grammatica. E allora, facciamo questo piccolo parallelo e ti domando. Allora, se fossimo una persona che sbaglia i congiuntivi e siamo in un ambiente dove tutte le persone non sanno parlare italiano e sbagliano i congiuntivi, nessuno se ne accorge, va bene. Ma, se facciamo il ministro che sbaglia i congiuntivi, tante altre persone che invece l'italiano lo sanno e i congiuntivi li sanno usare correttamente, si possono chiedere, ma quello lì non sa manco parlare, non sa mettere neanche i congiuntivi nel posto giusto o usare i congiuntivi, eppure fa il ministro. Insomma, ci facciamo queste idee. Diciamo che, nel momento in cui troviamo qualcuno che non sa parlare secondo la grammatica o secondo la sintassi, se ci troviamo in un contesto dove tutti fanno gli stessi errori, nessuno se ne accorge, né noi né gli altri. Ma nel momento in cui il contesto si allarga e ci incontriamo con altre persone che invece hanno un livello culturale di conoscenza della lingua un pochino più alto del nostro, si accorgono immediatamente dell'errore e lì cosa nasce? Nasce un giudizio, un pregiudizio, nasce un'idea, ok, che può dire ma questo come diavolo parla? Ti suona questa cosa? Scrivimi nei commenti se ti è mai capitato, se è... Lì anche è quello che capita con tanti grammar nazi su Facebook, sui social network, che appena sbagli la parolina immediatamente vengono a dire non si pronuncia così, si dice questo, si dice così, si dice cosa... Ok. Quindi questa è una cosa normale. La conoscenza della lingua italiana, chi la conosce, ovviamente, dice e immediatamente gli nasce l'idea in testa che quella persona lì che sbaglia a parlare italiano perché magari mette le frasi in un modo strano oppure non coniuga bene i verbi o altro ancora, dice probabilmente non è così tanto acculturata e riporta al contempo come non sai che congiuntivi come fa a fare il ministro, riporta quella ignoranza dal punto di vista di cultura linguistica anche dal punto di vista di cultura professionale o di capacità personali di vario tipo, di vario genere. Guardiamo dal punto di vista della sintassi e chiedo perdono ai sardi ma mi viene in mente questa cosa qua in questo momento. è chiaro che se siamo in terra di Sardegna e sento formaggio sardo c'ho me non è italiano corretto tuttavia sai che fa parte di quella zona quindi chi vive lì non giudica magari troppo nel senso che è abituato va bene magari lo usa anche lui qualcun altro che va in vacanza in Sardegna non gli pesa nemmeno troppo perché fa parte della Sardegna fa parte del luogo in cui vai quindi ok lo accetto e ti ascolto e lo ascolto anzi diventa caratteristico no? è anche bello ma nel momento in cui ci può essere un ruolo invece di professionalità o di leadership allora potrebbe diventare un punto di debolezza potrebbe diventarlo a seconda della nostra cornice quindi è chiaro che però l'immagine o il pensiero del dire ok questa persona qua non sa parlare correttamente in italiano nemmeno dal punto di vista della sintassi può farmi venire qualche dubbio o magari non a tutti ma qualcuno potrebbe farlo venire sul grado di istruzione di preparazione di cultura di quella determinata persona ok? questo vale per tutte le cadenze di letale per tutti i modi di dire per tutte le cose che non corrispondono con l'italiano corretto ok? la fonetica l'ortepia fanno parte della lingua italiana quindi come nel momento in cui sbagli la grammatica nel contesto sociale dove tutti la sbagliano non c'è differenza ma nel momento in cui cambi contesto e vai con qualcuno che invece conosce un po' di più l'italiano immediatamente chi è a un gradino sotto chiamiamolo così dal punto di vista della conoscenza della lingua immediatamente chi è più sopra si fa un'idea giusto sbagliata non siamo qua dobbiamo comprendere e non giudicare può crearsi un'idea o un giudizio del cazzo ma sbagliato ma come diavolo parla ok? e quindi può anche farsi un'idea del suo grado di preparazione di scolarizzazione e di professionalità eventualmente anche proprio perché riporta quel grado di preparazione linguistica come dicevo anche ad altri livelli di preparazione dal punto di vista fonetico è la stessa cosa ragazzi il problema è che non ce l'hanno mai insegnato perché a scuola non hanno mai insegnato la fonetica e l'ortepia ok? quindi e però cosa succede? nel momento in cui noi siamo nello stesso contesto sociale dove tutti hanno gli stessi errori più o meno dal punto di vista di ortopia e di fonetica allora questi errori né noi né gli altri li andiamo a riconoscere non ci accorgiamo nel momento in cui però andiamo in un contesto più ampio dove ci sono altri modi di parlare non necessariamente corretti magari con altri errori ok? perché ogni regione ha le sue problematiche dal punto di vista dell'italiano no? quindi nessuno parla un italiano perfetto corretto oppure incontriamo qualcuno che invece parla effettivamente perché magari ha studiato qualcosa dal punto di vista di una dizione più corretta ecco che nascono quelle stesse idee o possono nascere magari non in tutti ma in una gran parte delle persone quella stessa idea del ma come diavolo parla e quella stessa idea ma se non sa parlare italiano non riesce a parlare in italiano posso avere il dubbio più o meno legittimo che magari non è nemmeno troppo preparato nell'altro settore perché dovrei starlo ad ascoltare? da questo si aggiungono anche possibili stereotipi simpatie o antipatie personali magari non so se tu sei del caso magari conosci qualcuno che dice io non posso sentire parlare i toscani non posso sentire parlare i veneti mi sta sul cazzo come parlano i veneti sta sulle valle come parlano i napoletani non posso ascoltare i siciliani non posso ascoltare i pugliesi e compagnia bella possono nascere anche queste cose quindi da una parte c'è questa parte questo concetto qui di un livello di distonia dal punto di vista fonetico e quindi di quello che noi associamo alla pronuncia dell'italiano che ogni regione ha la sua generalmente sono tutte incorrette e dall'altra parte poi abbiamo chi invece magari sa un pochettino di più o parla in maniera un pochettino più corretta l'italiano che nel momento in cui ascolta qualcuno che non parla correttamente dal punto di vista fonetico ha la stessa percezione di una persona che sbaglia congiuntivi o se non la stessa qualcosa di similare ok? ecco che allora riuscire a risolvere questa cosa qua può essere un vantaggio dicendolo in gergo un po' marchettaro un vantaggio sleale che ci consente di neutralizzare questo possibile stereotipo questo pensiero del come diavolo parla e questa associazione che possibilmente le persone alcune perlomeno si potrebbero fare del paragonare la cultura linguistica alla cultura generale o professionale ok? ecco che allora per alzare lo standard di nostro posizionamento di nostra percezione dal punto di vista della nostra capacità professionale della nostra cura ai dettagli alla nostra eleganza diventa importante correggere anche questo faccio un altro parallelo ritorniamo nell'ambito comunicativo corporeo quindi quello che riguarda l'estetica allora nel momento in cui tu vuoi con l'estetica acquisire un'immediata percezione di maggiore importanza o autorità autorevolezza in un contesto sociale tu puoi fare due cose la prima che è quella generalmente più consigliata per risaltare su quello che è il contesto sociale e aggiungere uno strato di vestito ovvero vado in un posto può essere un corso di formazione quello che può essere insomma una riunione dove generalmente il mood lo stile generale accettato dove tutti si vestono può essere pantaloni e camicia ok? ecco che allora tu potresti andare con pantaloni camicia e giacca se c'è pantaloni camicia o pantaloni camicia e giacca tu magari puoi andare con la cravatta ok? se sei in un ambiente dove tutti vanno in giacca e cravatta tu ti metti anche il doppio petto ok? quindi ti aggiungi uno strato di vestito questo inconsciamente attira l'attenzione e aumenta il grado di importanza percepita o il grado se non di professionalità proprio di dire quella persona lì è più importante proprio perché sappiamo l'abito fa il monaco magari non vogliamo accettarlo ma l'abito fa il monaco ok? in tantissimi contesti almeno dal prima percezione poi bisogna effettivamente vedere le altre cose ma se vogliamo giocare da prima percezione e innalzarla e poi effettivamente la prima impressione seguita da una giusta preparazione allora ci sarà anche la seconda la terza la quarta impressione che continuerà a confermare la prima se invece la nostra prima impressione è più bassa sarà più difficile scalare la montagna ok? perché partiamo con il sapone sotto alle suole e quindi in sequenza andiamo su scivolando e facciamo molta più fatica quindi molto meglio posizionarci immediatamente in un contesto sociale ma un gradino leggermente più alto altra possibilità è quella di uscire completamente dagli schemi tu ti giacca e cravatta fai lo Steve Jobs o il Mark Zuckerberg della situazione e vai lì in maglietta o con il maglioncino sliso i jeans brutti e quant'altro esci totalmente dallo schema oppure sono tutti vestiti con una giacca più o meno elegante i soliti colori no? del blu e quant'altro e tu magari vai lì con una giacca tutta colorata e magari con la cravatta di paperino sei un originale no? sicuramente sei visto in un modo diverso attira l'attenzione vai fuori dagli schemi e poi da lì nascono tutta una serie di altri pensieri comportamenti eccetera eccetera anche lì deve essere giustificato da chi sei tu e quindi mi piace uscire dagli schemi essere anticonformista e poi fare evidenziare in determinati modi più o meno gentili quella che può essere la mia differenziazione oppure dire mi conformo un pochettino di più a quello che è l'ambiente ma aggiungere quello strato di vestito per dare automaticamente quel grado di importanza professionalità autorevolezza autorità in più stessa cosa la dobbiamo trasportare dal punto di vista di estetica vocale e quindi come facciamo noi a dare questo gradino in più della nostra estetica vocale? l'estetica vocale è data dall'addizione quindi noi generalmente sul nostro contesto sociale dovremmo posizionarci a un gradino leggermente più alto di pulizia dell'eleoquio ok? quindi l'estetica dell'eleoquio dovrebbe essere più pulito più elegante appena appena non serve essere esageratamente perfetti non devi parlare come un doppiatore dovrai essere generalmente su una linea appena un pochino superiore come in una location dove vanno in giacca e camicia o comunque qualcosa di abbastanza un misto tra elegante e casual tu non vai lì vestito in frac ok? piuttosto ti metti una camicia più bella e magari ti metti una cravatta ok? oppure ti metti un orologio particolare un qualcosa che dice sono leggermente più sopra e mi faccio notare per quello e quindi di conseguenza posso essere riconosciuto per stereotipo inconsciamente come una persona che ha qualcosa in più degli altri ecco che dal punto di vista dell'addizione è la stessa cosa quindi nel momento in cui sei nel tuo territorio tutti parlano come parlano tu potresti o parlare come loro o essere leggermente più sopra pur mantenendo la tua cadenza dialettale se invece vai a lavorare in un pubblico in un contesto dove ciascuno ha la sua modalità ok? quindi c'è quello vestito in giacca e jeans c'è questo quello vestito in giacca e cravatta allora tu non dovrai mettere semplicemente la giacca o una giacca un pochettino più elegante più firmata ma magari dovrai metterti effettivamente questa cravatta no? magari ti dovrai mettere l'orologio insomma diventi il punto di riferimento sopra tutti gli altri poi il grado di quanto ti vesti elegante dipende anche dalla tua voglia ok? dai tuoi gusti personali ok? perché ci sono persone che magari invece vogliono vestirsi sempre in maniera perfetta particolare allora vanno vestiti molto elegantemente anche in altre situazioni ok? quindi si distinguono ancora di più e con quindi l'addizione ripeto è la stessa identica cosa noi dobbiamo distinguerci e essere leggermente sopra gli altri quindi se tu devi fare un evento di public speaking o devi fare dei video in tutta Italia ecco generalmente la tua addizione dovrebbe essere un pochettino più corretta poi l'altra possibilità oppure l'altra possibilità può essere effettivamente fare esattamente il contrario quindi andare agli antipodi tuttavia dobbiamo capire che andando agli antipodi abbiamo dei vantaggi e degli svantaggi che però dipendono anche da come poi reazioniamo e da come costruiamo il nostro personaggio generalmente l'antipodo al parlare più correttamente e quindi stare leggermente più sopra che va a dare beneficio e comprensione a tutto il pool di pubblico in un contesto più ampio sociale con diversi dialetti diverse cadenze eccetera eccetera può essere quello effettivamente di marcare molto di più la propria cadenza dialettale e magari ficcarci dentro anche il dialetto questo però cosa provoca? provoca la costruzione di un personaggio molto più polarizzante costruisce chiaramente la curiosità generalmente associato a un pubblico maggiore territoriale e un po' meno di altri territori ed è generalmente associato con uno stile che potenzialmente potrebbe essere più simpatico non sempre non sempre ci sono sempre le eccezioni però generalmente ecco quelli che vogliono fare politica ironica magari lo vedi anche su facebook eccetera hanno questa tipologia di posizionamento magari si rivolgono con i video a tutta Italia però identificano la loro identità territoriale con una marcata cadenza territoriale ecco che allora diventa può essere anche questo un vantaggio quindi tutto dipende la risposta è dipende ma bisogna conoscere effettivamente quali sono questi nostri quattro lati queste nostre quattro lati della cornice quindi chi siamo noi e come vogliamo essere visti riconosciuti percepiti come ci piace vestirci dal punto di vista estetico come possiamo vogliamo essere percepiti dal punto di vista di caratteristiche personali siamo una persona elegante siamo una persona con un certo stile prezioso siamo attenti ai dettagli siamo puntuali siamo estremamente preparati e allora potenzialmente di solito il vestito mostra queste cose già probabilmente questa cosa qua la fai che il tuo modo di vestire la tua presenza la tua postura comunicano questo grado di preparazione di attenzione al dettaglio eccetera bisogna riuscire a trasmettere le stesse cose anche con la voce quindi di conseguenza rendere più pulito l'eloquio più prezioso l'eloquio ok più elegante questa cura ai dettagli questa percezione di professionalità o di preparazione si evince proprio dalla conoscenza corretta della pronuncia della lingua italiana viceversa invece possono esserci dei casi magari se è commercialista nella zona territoriale devi fare politico sul territorio allora in questo caso non ti servirà andare troppo su dal punto di vista della conoscenza della dizione potresti risolvere alcune cose generali abbassando affievolendo appena la cadenza dialettale migliorando magari l'articolazione correggendo un pochino quelle che possono essere la dizione senza andare a esagerare semplicemente bastano pochi dettagli e dopodiché lavorare invece molto di più su quello che è l'atteggiamento quindi la capacità di coinvolgere e quindi lavorare ad esempio su tutto quell'ambito dell'espressività degli elementi espressivi della voce del colore della voce e quindi con quello che noi facciamo magari in comunicazione carismatica ok quindi se non c'è conoscenza o consapevolezza di chi sono di chi è il pubblico e quindi di conseguenza come parla il mio pubblico di qual è il contesto dove vado a parlare e quindi di conseguenza sarà un contesto più formale più informale se vado in spiaggia non vado in giacca e cravatta ok magari con le stesse persone che possono essere colleghi di lavoro se andiamo tutti in spiaggia mi vestirò in modo diverso rispetto a fare una riunione di lavoro ok quindi qual è il contesto l'ambiente in cui devo andare a parlare e lì si adatta anche qua la comunicazione il vestito vocale e poi qual è il mio scopo comunicativo devo intrattenere devo convincere devo far passare effettivamente la mia preparazione e cultura immediatamente oppure posso essere più diciamo piacione consentitemi il termine quindi essere più del popolo se vogliamo essere più vicini dal punto di vista il contatto empatico di pronuncia con il popolo ma dall'altra parte comunque ergermi come leader e allora avrò una voce maggiormente da leader che magari sarà più spinta e prodotta da una variazione della voce degli elementi espressivi ecco chi sono qual è il mio pubblico qual è l'ambiente il contesto e qual è lo scopo sono pezzi fondamentali che tu per primo devi conoscere per poi andare a dipingere magari insieme con i nostri tutor quello che può essere il quadro e per stabilire quella che è la strategia di miglioramento di studio della voce quindi per fare questo e per capire poi come dipingere questo quadro magari se tu non sei un esperto non è la prima volta che si è di parlare di ste robe eccetera magari non hai neanche la lucidità o la consapevolezza o la capacità artistica chiamiamola così di dipingere questo quadro e allora è molto meglio fissare una consulenza con uno dei miei tutor che sono preparati su questo e possono ascoltando quelli che sono i tuoi lati quindi chi sei tu a chi ti vuoi rivolgere in quale contesto in quale modo e qual è il tuo scopo quali sono i tuoi obiettivi potranno dirti effettivamente dove devi migliorare che cosa dovresti risolvere e quale cose quali aspetti sono prioritari da risolvere cosa fare prima cosa fare dopo qual è il percorso effettivamente di studio di allenamento per risolvere i tuoi eventuali difetti comunicativi magari anche piccoli dei piccoli dettagli ma che possono fare una grande differenza quindi si può lavorare su quel 20% che genera il famoso 80% dei risultati dopodiché si può andare ulteriormente a fare un altro 20% che genera ulteriori risultati quindi andare sempre di più verso un perfezionamento della propria efficacia comunicativa però è chiaro che la strategia se non riesci a stabilirla tu e quindi di conseguenza non puoi studiare per quanto tu altrimenti probabilmente l'avresti già fatto allora diventa estremamente importante parlare con qualcuno che si occupa tutti i giorni di queste cose e che è formato su questo aspetto non un aspetto artistico non un insegnante di canto non un attore ma qualcuno che si occupa di aiutare persone professionisti a migliorare proprio questi aspetti di posizionamento di efficacia comunicativa nella vita personale e lavorativa noi siamo esperti di questo io e il mio staff siamo esperti di questo abbiamo già aiutato centinaia di persone continuiamo a farlo con i nostri corsi percorsi consulenze e possiamo farlo anche con te quindi il mio consiglio è uno identifica effettivamente prova a pensare a quali sono chi sei tu che cosa vuoi esprimere di te stesso qual è il pubblico a cui ti vuoi rivolgere nell'ambito lavorativo o personale qual è il contesto o i contesti in cui ti rivolgi e qual è lo scopo o gli scopi gli obiettivi che vuoi raggiungere dal punto di vista di aumento dell'efficacia comunicativa e una volta che queste cose qui ti invito o nel mentre che ci stai pensando ti invito effettivamente a schedulare immediatamente subito subito una consulenza con uno dei miei tutor proprio per cercare di capire come fare come sistemare quel 20% che ti può dare l'80% dei risultati in più avvicinarti a quelli che sono i tuoi obiettivi e quel tuo scopo il più velocemente possibile ogni secondo che passa ogni minuto ogni giorno ogni anno che passa non stai ringiovanendo ma il contrario il tempo scorre solamente in avanti e il miglioramento non è retroattivo più si aspetta a migliorare queste cose più si aspetta ad ottenere dei cambiamenti dei miglioramenti dei risultati diversi quindi o ci si accontenta dei risultati che si hanno attualmente quindi si continuano a fare le stesse cose parlare nello stesso modo avere questa differenza di immagine tra estetica vocale e fisica questa incongruenza comunicativa questo rischio di avere una percezione sbagliata negli altri che ti danno meno autorevolezza meno leadership meno preparazione percepita perché fai degli errori che magari tu non riconosci nemmeno perché non sei abituato a riconoscere e quindi continui così con queste difficoltà magari per te sono impercettibili ma ci sono o ci possono essere e o continui così oppure invece identifichi quale cosa vuoi trasmettere tu identifichi in che modo agire in quale contesto con quale persone quali sono i tuoi obiettivi che cosa vuoi migliorare che cosa vuoi trasformare della tua comunicazione della tua vita dei tuoi risultati e parli con qualcuno di esperto così che si può iniziare il prima possibile a cambiare questi aspetti delle piccole attività delle piccole cose che possono darti enormi cambiamenti enormi risultati quindi fidati di me te lo chiedo così poi se vuoi non fidarti non fidarti ma fidati di me schedula subito una consulenza con uno dei miei tutor i benefici che potrai ottenere non appena inizierai a cambiare la tua voce o la tua e o la tua dizione saranno veramente strabilianti quindi ci vediamo all'interno di qualche nostro corso ciao comunicazione carismatica da oggi cambia tutto grazie a tutti